Dopo 34 settimane di gravidanza, Stefania Praseda, 36 anni, ha dato alla luce all'ospedale Guzzardi tre gemelli, due femminucci e un maschietto, che si trovano adesso nel reparto di neonatologia dall'ospedale di Ragusa Ibla. I tre neonati sono in buone condizioni e presto saranno a casa, dove troveranno papà Fabio Baglieri, la mamma e la sorella primogenita Paola, di 5 anni. Ai tre nuovi arrivati in casa Baglieri, coppia che lavora in banca a Vittoria, sono stati messi i nomi di Marco, Flavia e Martina. Il parto è stato effettuato dall'equip dei ginecologi Antonio Schifani e Roberto Molè, assistiti da piediati anestesisti, che hanno portato a termine l'intervento con la massima professionalità. Ed era da oltre un decennio, hanno ricordato dallo stesso nosocome Ipparino, che a Vittoria non si verificava un parto di tre gemelli. Tutti andati quindi bene, senza alcun intoppo, grazie alla professionalità dell'equip, obbligata tra l'altro al cesario, trattandosi appunto di parto trigemino. Anche la mamma è al momento ricoverata in reparto, in attesa di potersi ricongiungere a giorni, con le nuove arrivate.